vi vi video e devo fare la scherza a Giorgia lo conoscete? scrivido porca ok lo conoscete? scrivido devo mettere proprio in testa a Giorgia bellissimo terrificata e aspetta Giorgia perché è in edicola ciao metto un attimo passo ok Giorgia è arrivata Giorgia sto preparando il telefono per fare un video e vai rete bello scherzo è riuscito proprio della maniera più assurda del cazzo che cazzo è? no! aiuto peli ah! ti preoccupare Giorgia ti potrebbe levante ti potrebbero c'è ma vi devi contenirsi che cazzo è? no porca prendilo ah! ah! merda ah! ah! no 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 io schifo! io schifo! ah! basta Giorgia ah! ah! vieni a divertimento ah! 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 ok bella a tutti ragazzi spero che vi piace il video ho gli occhiali eppure gli occhiali bella a tutti ragazzi a me che vi piace ciao!